Live Social e come affronta l'attività? Allora, fare il wedding planner è una sorta di lavoro a 360 gradi perché il paradone che viene usato di più per spiegare questo tipo di lavoro è un po' la regia di un'orchestra perché comunque ovviamente poi ci sono molteplici servizi che poi vi spiegherò però di base un wedding planner segue dall'inizio alla fine di un percorso che comunque di base può durare da un anno o magari a sei mesi in base a quando il cliente ci contatta comunque segue dall'inizio alla fine tutto il percorso gli sposi li segue passo dopo passo nelle scelte, negli incontri, negli appuntamenti ma soprattutto dirige un certo numero di fornitori perché comunque attorno al giorno dell'evento o del matrimonio ci sono moltissimi lavoratori all'opera devo dire che io ho iniziato un po' più giovane rispetto a molte altre wedding planner perché comunque io ho 26 anni e in realtà faccio questo lavoro già da 4 anni ovviamente 4 anni di tanta gavetta gavetta, lavoro per altre wedding planner perché è la cosa più importante bisogna sempre formarsi prima dal punto di vista teorico è la base quindi cercare sempre dei buoni corsi ce ne sono molti bisogna ovviamente cercare quelli giusti per sé sempre formarsi anche da autodidatta perché io penso che questo sia un lavoro in cui non si smette mai di imparare c'è sempre qualcosa di nuovo allora ti facciamo davvero tanti complimenti per la tua formazione per la tua professionalità insomma nonostante sei così giovane sei già preparatissima su questo lavoro grazie fortunatamente ho deciso di mettermi in proprio proprio in questo periodo lo stavo dicendo lo stavo immaginando visto che da poco ti sei messa in prodo quindi da quanto tempo più o meno? un anno ok va bene quindi hai fatto appena in tempo a partire fortemente hai fatto appena in tempo a partire adesso ti trovi va bene in questa situazione un po' paradossale un po' difficile però sì ma non demordo e non mi demoralizzo assolutamente perché comunque la vedo come un periodo in cui mi posso formare comunque continuo a contattare qualsiasi tipo di fornitore per ampliare la mia rosa di fornitore da presentare alle coppie è comunque un periodo che può sempre essere utile è capitato fa niente sono comunque positiva esatto questo è lo spirito giusto appunto per affrontare per affrontare anche questo momento e dalla tua voce insomma dalla tua energia si sente appunto che sei sulla strada giusta va bene Eleonora davvero molto interessante prima di salutarci diamo tutti i tuoi contatti così le persone possono contattarti per avere appunto più informazioni sulla tua attività e perché no magari anche diventare dei tuoi clienti certo assolutamente vai dici tutto dall'indirizzo fisico che è in via Giovanni Falcone giusto? esatto sì è la mia sede legale io non ho un ufficio per scelta personale perché mi sposto in base alle esigenze degli sposi quindi vado magari vicino a casa loro se hanno bisogno almeno loro non si spostano e faccio tutto io è proprio una cosa su cui punto tanto allora diamo tutti i contatti social e anche il sito web vai esatto allora il sito web è www.wevens.it ovviamente anche pagina instagram e facebook wevens planning e l'email info chiocciola wevens.it amici di live social restate ancora con noi per altre storie da ascoltare a dopo live social